Parte il countdown e la città di Taranto in vista del turno di ballottaggio delle amministrative 2017 che nella bolgia delle 32 liste 10 candidati sindaci ha visto emergere la direttrice del carcere Stefania Baldassarri 22,3% candidata del centrodestra e Rinaldo Melucci 17,9% l'esponente appoggiato da PD e Civiche saranno loro due a contendersi il ruolo di prossimo sindaco nel ballottaggio di domenica 25 giugno uno scranno particolarmente importante quello di primo cittadino del capologo ionico qui arrivare preparati ma soprattutto più forti possibile grazie anche ad alleanze che dovrebbero risultare determinanti alla causa ed è conoscere l'apparentamento del candidato Melucci del centro-sinistra con la lista Taranto Benecomune l'unica che nella coalizione di Piero Bitetti ha superato il 3% l'ufficializzazione nel corso di una conferenza stampa Noi abbiamo voluto mettere a disposizione un progetto politico con dei contenuti ci siamo incontrati con l'amico Rinaldo c'è stata intesa tra l'altro di programmi molto simili di programmi che guardano in particolare a quelle che saranno le economie aggiuntive per il nostro territorio e che tenteranno di portare a un livello alto, altissimo il livello della qualità della vita Ripeto, abbiamo fatto un apparentamento come previsto dalla norma ci siamo incontrati, abbiamo condiviso, siamo arrivati a sintesi oggi siamo qui, sono felice di sostenerlo abbiamo fatto una campagna elettorale dove ci siamo misurati in maniera leale ripeto, sui contenuti la gente ha riconosciuto a lui dei ritorni, dei consensi, a noi degli altri bene, noi lavoriamo chiaramente d'intesa per il bene della collettività, per il bene della città Mi piace ricordare uno degli slogan di Piero, l'esperienza giovane c'è classe dirigente di qualità in questa città che anche in discontinuità con certe operazioni del passato sta cercando di far salire il livello anche di questa città dal punto di vista culturale, politico si sta tornando a fare veramente la buona politica torna insieme il centro-sinistra, questa era l'idea di partenza e d'altronde se vogliamo riconciliare questa città ricomporre le lacerazioni che hanno animato questa comunità negli ultimi anni non possiamo che cominciare da casa nostra, altrimenti non siamo credibili e siamo contenti che questo avvenga a casa nostra perché parliamo di uno spazio di nuovo culturale e sociale dove la persona è al centro In caso di Vittoria Di Melucci il PD perderebbe due seggi tra dici quelli a disposizione senza parentamenti out sarebbero Scarpatti e Lito Odaro fuori anche il primo degli eletti della lista per Giovanni Guarino posti questi che sarebbero occupati rispettivamente da Vitetti che scatterebbe ovviamente in maggioranza e i primi degli eletti in Tarantobene Comune, Mele e Cataldino ovviamente gli esclusi rientrerebbero una volta composta la giunta sistemati gli assessori infatti scorrerebbe la lista di consiglieri che tornerebbero in gara Grazie 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 Grazie